Potrero! 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 Potrero, dove tutto ha inizio. Rumbe, goleade, gol strepitosi e cadute rumorose. Le semifinali d'andata di Libertadores e Sudamericana ci hanno lasciato questo e tanto altro in eredità in vista delle sfide di ritorno che ci apprestiamo a presentare. Sono Tommaso Murdoca, con me oggi c'è Enrico Zambronciari. Ciao Tommy, un saluto a tutti. Insomma, delle sfide che veramente ci hanno regalato emozioni immense nelle due principali manifestazioni calcistiche del Sudamerica. Ricordiamo gli appuntamenti, prima di tutto, in esclusiva sulla nostra piattaforma, su Mola, già questa notte il match di ritorno tra River Plate e Atletico Mineiro, mentre nella notte di domani, sempre alle ore 1.30, ci sarà Peñarol contro Botafogo. Partirei a parlare proprio di queste due gare incredibili che ci hanno riservato risultati assolutamente impronosticabili, ma prima di addentrarci all'interno del nostro commento andiamo a rivivere anzi qualche emozione di quelle gare. Ora Lianco prova a sventagliare in avanti, la tocca Hulk, pallone per Deiverson! Fino in fondo, il numero 9, il lavoro fisico di Hulk! Luis Enrique, dentro il pallone, Jefferson Savarino, Jefferson Savarino! Tocco morbido, gol del 10, Botafogo in vantaggio, splendido, tracciante per Jefferson Savarino! Attenzione alla battuta veloce con le mani, ancora per Deiverson, che trova l'imbucata, per il destro deviato! E tre a zero, ha segnato Paulinho e cappotto del River Plate! Attacca la formazione, Piaconera con la palla dentro, attenzione a Luis Enrique, Luis Enrique! Con il tocco sotto, morbido, morbido! Il poker è servito all'ilton Santo Serio di Janeiro! Atletico-Mineiro, River Plate, 3 a zero, Botafogo-Pegnarol, 5 a zero. Due risultati che lasciano tutto apertissimo per il ritorno. Ah no! Beh, sono due semifinali molto belle, avremo l'onore di poterle raccontare noi tutto. Maso, questa notte ti faccio fare le tante ore di lavoro oggi qua e poi stanotte al commento. Partiamo da River Plate contro Atletico-Mineiro. All'andata 3 a zero è stato, sportivamente parlando, un massacro. La dobbiata di Deverson, poi Deverson che è l'eroe della finale di Libertadores del 2021 quando lui indossava la casacca del Palmeiras che al minuto numero 95 regalò il titolo al Verdao nella finale, forse tra le più attese di sempre, al pari di Boca River, quella contro il Flamengo e in quel di Montevideo. Deverson che sta trovando un momento magico nella sua carriera. Già in campionato era stato decisivo in più occasioni, però adesso sa che questo è il momento più importante della stagione e Atletico-Mineiro non ha sbagliato niente nella gara d'andata. Avete sentito anche il nostro Simone Indovino che l'ha raccontato insieme a Paolo Rossi. 3 a 0 all'andata, tutto fatto? No, perché non conoscete Sud America. Non conoscete Sud America e non conoscete quello stadio che si chiama Monumental di Buenos Aires per questioni di sponsor mass, Monumental di Buenos Aires, dove tutto può accadere. Perché in mezzo a quegli 86.000 persone, percepite sono 180.000, il River Plate con Marcello Gaggiardo in panchina, che ha già dimostrato in passato in altre manifestazioni di fare grandi rimonte, può succedere di tutto. Ma non è che vi devo convincere e spingervi a guardare questa notte mole e ascoltare Tommaso e Paolo Rossi che saranno al commento, ma perché questo può succedere davvero. Se poi ci unisci il fatto che in Sud America la follia è l'ordine del giorno, e l'ora ti dico sì, i tifosi, i giocatori e lo staff tecnico di Atletico-Mineiro stanotte non possono stare tranquilli. Devono assolutamente mettere a referto altri gol. Però voglio sapere la tua adesso. No, beh, io mi aspetto chiaramente che dovessi giocarmi un euro, non penso che River possa rimontarla, però effettivamente andando anche a spulciare quelle che sono i precedenti e le statistiche, il River è una delle cinque squadre che durante l'arco e la storia di tutta questa competizione sono riuscite a ribaltarlo, uno svantaggio di ben tre gol all'interno di un turno di eliminazione diretta. Non è mai successo a questo punto del torneo, quindi in semifinale, però l'ultima volta che una squadra in Libertadores ha rimontato tre gol di svantaggio dell'andata nel match di ritorno, di mezzo c'era proprio River Plate. Parliamo del 2017, River che perse ai quarti l'andata in casa del Jorge Wilsterman 3-0, al ritorno vinse 8-0 al Monumental, che tra l'altro è lo stadio... 8 sono tanti. 8 sono tanti, non so come fece a perdere 3-0 l'andata, però poi diciamo che rimediò al meglio. È lo stadio della finale, c'era stato qualche dubbio per qualche giorno, ma è stato confermato, è lo stadio della finale, quindi questa è una motivazione immensa. Dirò una cosa scontata, ma è così, dovesse arrivare il gol in apertura, allora sì, si riapre tutto. L'Atletico Mineiro ha l'obiettivo e la missione di mettere subito almeno un gol a segno per chiudere definitivamente la pratica, perché 3-0 è chiuso, non è chiusissimo, a differenza dell'altra semifinale. Sì, quello ci arriveremo. Tommy, l'ha dimostrato l'altro giorno Inter-Juve. Che cosa sta dicendo il calcio in questo momento, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, ma anche per il Sud America, che ormai le squadre hanno più piani per poter trovare la via del gol. E il River Plate è una squadra che ha il piano della prestanza sui palloni aerei, perché ha dei martelli aerei molto forti, che possono fare gol, quindi anche i difensori. Ha una situazione di calci piazzati molto buona, perché ha dei calcianti ottimali e ha degli attaccanti che sono da guizzo all'interno dell'area di rigore, ma sanno anche costruirsi individualmente le reti. Però mi soffermerei sul tema dell'attacco, perché se io vado a vedere la gara d'andata, ma vado a vedere globalmente la forza delle punte che sono a disposizione per i due allenatori, secondo me stravince questo confronto atetico-Mineiro. Perché il trittico Hulk, Daverson e Paolinho, sì, perché si vede se l'ascolto per la prima volta oggi, Hulk gioca ancora, calcia le punizioni da 40 metri in giù, è sempre decisivo nonostante i 38 anni, ed è un giocatore che è fisicamente prestante allo stesso modo nei tempi in cui giocava nel Porto o nello Zenit San Pietroburgo. Fatto assist per Daverson. Fatto assist per Daverson, l'avete ascoltato nell'audio che ha lanciato poco fa Tommaso. Nel Boca la coppia a Miguel Borca, ricorderete con un passato breve e molto brutto a Livorno, ma che è la star assolutamente del Boca dal punto di vista offensivo, ha copiato a Colidio, un ex settore giovanile dell'Inter, mi sembra meno forte. Però, però torniamo lì, è vero che il pubblico non fa gol, non mette la palla materialmente in porta, ma ti spinge, è monumentale, quando trema, trema. Sì, ci vuole una notte veramente da grandi giocatori, da perfezione. Perché il River ha segnato un gol negli ultimi 450 minuti, nelle ultime cinque partite, quindi sono numeri offensivi preoccupanti. Ti chiedo io, allora, dovesse uscire il River, non dovesse riuscire il miracolo? Bruttissima liga professionale fino a questo momento, fuori in semifinale, ma diciamo senza praticamente mai giocartela, contro l'Atletico Mineiro, come lo definiamo? Fallimento sportivo, fallimento sportivo perché era riduce al 2023 dalla vittoria del campionato con Martín De Micelis in panchina. Sicuramente il cambio di panchina in corsa di quest'anno non ha aiutato la banda. Marcello Gaggiardo è un tecnico che è capace di poter fare queste remuntate, ma non è che fa i miracoli. Secondo me la formazione, al di là degli acquisti che gli hanno fatto nel mercato estivo, di fatto per noi europeo, quindi tra giugno, luglio e agosto, siano stati molto buoni, è una formazione che fa un'enorme fatica a mettere la palla in porta. Ultimi due velocissimi spunti di riflessione. La finale il 30 di novembre, nonostante sia stata messa in dubbio, è stata confermata che sarà lì al monumentale. E quindi questo è un'ulteriore potenziale spinta per quanto riguarda i giocatori del River per cercare di entrare nella storia due volte, di ribaltare un 3-0 dell'andata e di giocarsi la finale tra le muore amiche. La seconda considerazione che faccio è che Gaggiardo è uno orgoglioso. E' uno orgoglioso e non ce la fa, secondo me, ad alzare bandiera bianca. Ed è un grande motivatore. E quindi spronerà i suoi che devono ancora giocare questa partita decisiva, nel 2024. E quindi daranno tutto, ovviamente. All in, all in assolutamente per il River Plate. Io spero, insomma, questa notte di raccontare il passaggio. Non ti fiamo per nessuno, però certo. Che si rimette, insomma, la gara in equilibrio e che ci possa assolutamente godersi una sfida in cui entrambe possono sognare il passaggio del turno. Parlando di precedenti, di rimonti miracolose, non è mai accaduto nella storia di questo torneo della Libertadores che una squadra rimontasse uno svantaggio di 5 gol a nessuno stadio del torneo, in nessun frangente. 5-0 è una sconfitta che, francamente, per il Pegnarol non mi aspettavo, perché era una formazione che in questo torneo, e in generale ovviamente in Uruguay, dove il livello è un po' più basso, ha subito pochissime reti. Invece il Botafogo ha fatto una prova eccezionale, tu l'hai vista all'opera. Sì, l'unica squadra era il Pegnarol che, al di là della fase a Gironi, tra ottavi di finale e quarti finale, ha subito solamente un gol. Delle partite magnifiche, giocate in casa, ma bravissime anche a chiudersi, a ripartire e a vincere 1-0 al Maracanà sul campo del Flamengo nell'andata di quarti finale, poi 0-0 a Montevideo. Però nel secondo tempo, l'ho commentata io insieme a Paolo, è crollata completamente dopo un primo tempo, dove qualcosina aveva fatto, comunque aveva tenuto sulla 0-0 il Fogao, poi il Botafogo nel secondo tempo ha fatto quello che ha voluto. Mettici a guerra che il portiere Pegnarol, che non ha preso veramente una biglia, obiettivamente uscendo a sfarfallando come i peggiori estremi difensori. Poi ha preso 5 gol ed è stato letteralmente massacrato. Jefferson Savarino, Barbosa, Jefferson Savarino ancora, Luiz Enrique, Igor Jesus hanno messo 5 reti tra il 51esimo e il 79esimo e ti assicuro che poteva essere 6-7 a 0. Possibilità del Pegnarol? 0% non si dà, ti do 1%, 2% perché si gioca lì e quello è un inferno. Quello è un inferno, però significa che devi fare veramente un miracolo completo. Però il tema non è che dovete guardare solamente la semifinale del River, dovete guardare la semifinale del River. Però io vi consiglio di collegarvi domani notte, perché queste squadre qua, e spesso, e lo commentate, delle andate del ritorno dove c'è stata un'andata con una goleada, non gliene frega niente i sudamericani. Lo vogliono vincere per l'orgoglio, lo vogliono vincere perché non vogliono uno scalpo così brutto. Lo vogliono vincere perché, Tommy, un giocatore è espulso dopo 10 minuti. Devi giocare 80 minuti più il recupero in inferiorità numerica. È vero che magari 5 gol non li fai, ma ci puoi provare. E mentalmente sappiamo che il calcio può veramente capitare di tutto. Poi di fronte si trova una squadra forte, perché Botafogo è una squadra veramente forte, una squadra che ha tanti soldi, che ha fatto tornare determinati giocatori dell'Europa. Luiz Enriquex, Betis Siviglia, ha giocato in Liga Spagnola, tra l'altro non in un club banale, e nella semifinale d'andata ha fatto obiettivamente quello che ha voluto tra gol e assist. Botafogo è una squadra forte e in questo momento è la grande favorita per me per la vittoria della Libertadores. Non so, non so sbilanciarmi tra Botafogo e Atletico Minero. Sta di fatto che secondo me in maniera sbagliata noi a volte memori di quello che ha combinato il Botafogo lo scorso anno tendiamo a fare il funerale a questa squadra come dire ma adesso crolla, adesso crolla, adesso crolla. Invece se vai a vedere è l'unica squadra di quelle impegnate in queste semifinali di Libertadores che ha trovato la vittoria anche nell'ultimo turno di campionato nonostante la testa sia ovviamente la Libertadores. È vero, hai vinto 5-0, quindi hai avuto anche molta più leggerezza mentale. Il turnover c'è stato ma non totale, poco turnover a dire il vero. Il gol di Gregor, la vittoria 0-1 sul campo del Bragantino perché il Botafogo continua ovviamente la sua marcia in testa al Brasile Rao e a puntare anche l'obiettivo campionato nazionale. Le altre squadre si è visto, hanno trovato brutti risultati dal River che ha fatto 0-0 sul campo del Defensa, l'Atletico Minero ha perso 1-3 in casa contro l'Internazionale. Insomma, sono risultati differenti di squadre che dimostrano che ora facciamo all-in su una competizione e il Botafogo continua a portarne avanti due molto importanti in maniera contemporanea. Secondo me bisogna fare un grande applauso al Fogao. Un grandissimo applauso al Fogao, su allenatore portoghese Artur Jorge, l'ex tecnico del Braga. Dopo 31 turni, ovvero a 7 giornate alla fine, il Botafogo ha 3 punti vantaggio sul Palmeiras. Una situazione simile all'anno scorso con i Palmeiras che nei Brasile Rao gli portò via poi il titolo nelle ultime giornate. Mi sembra una squadra diversa, mi sembra una squadra con maggiori convinzioni, mi sembra una squadra che non si sfalda, mi sembra una squadra che ha in testa una possibile doppietta, ti dirò di più, ha la possibilità di vincere la Libertadores che per i sudamericani forse è molto più che qua in Europa per la Champions League. È veramente la gloria eterna. Il Fluminense, vedevo l'altro giorno, che continua ogni mese, ogni quattro del mese sui social a ricordare il trionfo del 4 novembre scorso che per loro è stata la prima vittoria. Dovesse esserci una finale tutta brasiliana sarebbe matematicamente la sesta vittoria consecutiva di un team proveniente da questo paese, sarebbe potenzialmente la prima volta per il Botafogo, sarebbe la seconda volta a distanza di 11 anni dalla vittoria 2013 per quanto riguarda la Tetico Mineiro. Però ti dico, Tommy, quel 2% io lo tengo aperto per i Pegnarolla. Occhio, occhio al campion del siglo, dici tu. Ebbè, ma ci sta, perché hanno scritto pagine incredibili della loro storia. Ma poi in casa, in casa, è bello quello stadio. Bello, bello, caldo, caldissimo. I tifosi sono una roba incredibile. L'abbiamo analizzato anche nell'ultimo pre-show, prima della semifinale d'andata. Hanno un amore per il loro club che è veramente sconfinato, quasi innaturale. Beh, pensa che roba dovesse vincerla un'altra squadra per la prima volta nella sua storia, di fila. No, beh, sarebbe bellissimo, perché questo è un paese... Tanti fanno ovviamente, Tommy, il paragone con l'Europa. Non ci dimentichiamo che in Sud America sono dieci nazioni. Le squadre sono limitate rispetto all'Europa, che è molto più grande e ha molti più paesi. È bello perché all'inizio della stagione tu dici, ok, lo vince il Rivero, questa non c'era il Boca, lo vince il Rivero, lo vince il Flamengo, lo vince il Palmeiras. No, le squadre brasiliane, obiettivamente, perché stanno facendo schifo, se dico Minero, in campionato, mentre il Botafogo è primo, se trovano il filotto giusto, possono vincere. Chiudo e poi passiamo alla Sudamericana, con la considerazione che il Botafogo ha cominciato dal secondo turno preliminare, poi c'è stato il terzo turno preliminare, poi c'è stata la fase a Gironi, poi ci sono stati gli ottavi, i quarti, la semifinale appunto di ritorno adesso. Ha cominciato prestissimo. Il capo croniere della Libertadores con nove golli, Junior Santos, che non gioca da mesi, perché si è infortunato. Questa è una squadra che ha veramente sette vite. Sì, è una squadra che davvero ha, secondo me, scoperto risorse che non sapeva nemmeno di avere. Cambiamo pagina, parliamo di gare, che insomma sono state molto equilibrate, quelle della Coppa Sudamericana, prima di parlarne riviviamo emozioni anche delle semifinali d'andata della Gran Conchista. Va Matteus Pereira al centro, palla respinta, raccolta, conclusione, la parata, la respinta! Segna Caio Giorgi! Sottoporta, arriva il gol dell'ex Juve Frosinone, che sblocca il match, la Raposa è avanti, col gol di Rapina, sottoporta, da Bomberbero, di Caio Giorgi, che fa 1-0, e il Cruzeiro mette il musetto avanti. Di nuovo Charles, l'appoggio Depay ai 25 metri, cerca la giocata Depay al limite, Depay cerca l'al destro, poi dentro, Iuri Alberto, Iuri Alberto! Con il tocco morbidissimo, scivola sotto la curva, scivola sotto i suoi tifosi, si fa sentire subito Memphis Depay, con la giocata al limite, dentro per il suo compagno. Cruzeiro Lanus 1-1, Corinthians Racing 2-2, due bellissime sfide tra Argentina e Brasiliana, opposte, due pareggi, che in questo caso si lasciano veramente i pronostici in bilico, beh, ti chiedo quale gara ti è piaciuta di più, anche se un'idea ce l'ho. No, beh, ovviamente 2-2 tra Racing e Corinthians, però è stata molto bella quella che ha raccontato Luca, Tominello, l'andata tra Cruzeiro e Lanus, domani sera alle 23 si gioca in Argentina, la gara di ritorno nel stadio Ciudad della Nus e Nestor Dias Peres, e sarà 47.000 persone che proveranno a spingere Lanus verso la finalissima. Una partita molto equilibrata, con secondo me un piccolo vantaggio per quanto riguarda il Cruzeiro che è l'allenatore. Fernando Diniz è campione con i Fluminense nella Libertadores 2023, vinta 2-1 ai tempi supplementari con i gol di John Kennedy, contro i Boca Juniors lo scorso 4 novembre 2023, ha una formazione che è veramente molto molto pericolosa, soprattutto in trasferta. Ha tanti giocatori, vecchie nostre conoscenze del campionato italiano, come Caio Giorgi, l'avete sentito dall'audio di Luca Tuminello, il gol del momentaneo 1-0, a Matteo Serrique, l'ex giocatore del Sassola, a Wallace, che sono i due schermi davanti alla difesa, ex centrocampista dell'Udinese, ha dei buonissimi giocatori, solamente che l'Anus ha una caratteristica, non molla niente, è sempre veramente con un gatto attaccato alla schiena, cosa pensi? No, no, fatelo lì. Un gatto attaccato alla schiena che ti si appende al maglione e non ti si molla mai, perfetto, è l'occasione della vita, Tommy, obiettivamente per l'Anus domani sera. Eh sì, assolutamente, la grande favorita del nostro Simone Indovino, che la sponsorizza dal primo giorno di questa scelta, sudamericana, beh, Russo Zizelinski è un allenatore emblematico in Argentina, molto amato, molto rispettato da tutti, è una squadra che ha sicuramente meno individualità, anche molto meno budget rispetto al Cruzeiro, però si ha questa garra tipica del suo allenatore, che le permette di essere ancora in corsa, l'Anus, la sudamericana, l'ha già vinta una volta, ma sono passati tanti tanti anni, undici, anche in questo caso, se non ricordo male, dovrebbe averla vinta nel 2013, è una squadra che ha meno individualità, però è una squadra che secondo me, con il fattore campo, poi sono sempre i rigori, c'è l'eventualità che si possa andare a tirare dal dischetto, e lì ovviamente si aprirebbe un terno all'otto ulteriore, dovessi giocarmi una fish, direi Cruzeiro, nonostante un interno all'andata, però questa è veramente una gara molto equilibrata, così come lo è, Corinthians Racing, anzi, Racing Corinthians, perché è vinta 2-2 in Brasile, 4 gol meravigliosi, giocatori in campo fantastici, De Pai che comincia davvero a regalarci sprazzi di classe assoluta, però tanti nostri colleghi, almeno mi ricordo parlandone in redazione, davano il Corinthians come netto favorito, perché è la brasiliana, e alla fine vedrai che viene fuori la brasiliana contro l'Argentina, il Racing sta facendo un brutto campionato, però in sudamericana sembra aver trovato il suo habitat. Per me la finale sarà Cruzeiro o Racing, quindi giocatevi il contrario, perché non prendo, no, aspetta, aspetta, Murdocca, non c'eri quel giorno, stiamo parlando dell'inizio della fase a gironi, posto sorteggio, dissi, no, dopo la prima giornata, che ho commentato io a Teddi Cominero, dissi, occhio atletico, questo 3-5-2, che poi l'ha cambiato, non gioca più 3-5-2, di fatto gioca un ibrido, può vincere la Libertadores, è quasi in finale, magari non la vince, magari non la vince, ma quasi in finale. No, io dico Racing, io dico Racing, nonostante Corinthians, abbia obiettivamente delle individualità molto forti, ma in una semifinale al cilindro, a proposito di può capitare di tutto, deve capitare qualcosa del Racing, Racing che ha un sogno, a breve o meglio, ha un sogno lui, Diego Milito, come presidente della formazione di Avejaneda, potrebbe vincere le imminenti lezioni, ha una grande possibilità al Racing, di poter andare a coronare un suo grande desiderio, arrivare al lato conclusivo, ed eventualmente vincerlo. Non sarà per niente facile, ecco, queste sono veramente partite, tutte e due, super equilibrate, mentre tendenzialmente le semi di Libertadores sono scritte, queste no. Queste sono davvero apertissime, ho calcato un po' troppo la mano con Racing, non sta facendo malissimo il campionato, è sesto, anche se l'ultimo turno l'ha perso 2-1 in casa del Banfield, è il Corinthians che sta facendo malissimo nel Brasile, a rischio retrocessione. Però sono arrivati tanti giocatori, ultimamente, nei mesi antecedenti, che hanno migliorato la squadra, ma per chi non lo sapesse, il Brasile Rao è uno dei nostri diritti, al pari anche della serie argentina, della Liga Professionale, il Brasile Rao tu puoi vincere, veramente perdere con chiunque. E soprattutto in queste ultime sette giornate, dove c'è una classifica, dove praticamente le stesse squadre, che sono qualificate potenzialmente per la Coppa Sudamericana, nel giro di due punti, rischiano la retrocessione. È qualcosa di incredibile, con l'Intes potremmo ancora andare in Coppa Sudamericana, invece in questo momento sarebbe retrocesso, se non vado errato. È lì, è lì, da quelle parti. Il Sudamerica è questo, il Sudamerica ce lo godiamo, Tommy ci attendono quattro semifinali di ritorno, veramente meravigliose. Per motivi diversi, ma secondo me saranno tutte divertentissime. Speriamo. Grazie Henry. Grazie a te. E allora buon divertimento, naturalmente non perdetevi su Mola, le semifinali di ritorno di Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana. Ciao. Potrero, dove tutto ha inizio.